Ciao ragazzi, oggi faccio questo video perché ero su Facebook e ho visto una notizia proprio falsissima proprio di una di quelle bufale assurde che praticamente diceva che un ragazzo di 33 anni aveva un polmone perforato a causa della sigaretta elettronica rotta adesso, parliamo cioè nel senso mettiamo il caso che questa fantomatica sigaretta elettronica si sia rotta vabbè, ci può stare, si rompe l'atomizzatore, ok oppure partono degli schizzi di liquido, ok, finiscono in gola vabbè, mettiamo anche il caso sia finito nei polmoni che non ci credo siano finiti direttamente così questo liquido, ma comunque cioè non è che nel liquido della sigaretta elettronica ci sia acido muriatico si sa ormai, da un bel po' di tempo, si sa cosa mettono nel liquido delle sigarette elettroniche adesso sfatiamo questo mito, giusto che il liquido perfora addirittura i polmoni o uccide o al solo contatto già si muoie cazzate, cazzate, cazzate assoluti cioè ragazzi, nel liquido della sigaretta elettronica cioè non c'è altro che glicerina vegetale glicole propilenico e la nicotina in percentuale che noi scegliamo che può anche essere 0% quindi e la nicotina in sé, sì, è tossica ma è soltanto quella che dà assuefazione, diciamo, all'interno del liquido e al contatto non perfora i polmoni cioè ve lo garantisco comunque cioè quella è proprio una bufala di quelle assurde e la cosa che più mi ha sbigottito proprio erano i commenti di quelle persone che hanno condiviso appunto questa bufala astronomica che dicevano, ah, questa tecnologia, cosa ci sta portando allora erano meglio le sigarette normali ah, povero ragazzo ma voglio dire, siamo nel 2016 vabbè, la notizia è del 2015, ok ma ancora nel 2016 cioè c'è una ignoranza nel tema di sigarette elettroniche che è una cosa che non sta né in cielo né in terra ora voglio dire farà male svapare ma non, mai quando la sigaretta normale ragazzi perché nella sigaretta normale c'è il catrame c'è il monossido c'è la nicotina ci sono tutti i pesticidi che mettono all'interno cioè nel tabacco c'è, si fuma la carta avviene la combustione quindi tutti cioè si sprigionano dei processi comunque che alterano e tutte quelle schifezze che mettono all'interno quindi è inutile che diciamo stupidaggini ancora su questa sigaretta elettronica e proprio la demonizziamo in tutti i modi basta se poi un giorno si scoprirà va bene che il vapore farà male ok ma ragazzi non credo mai che faccia male quanto le sigarette quanto il fumo della sigaretta analogica mai e poi mai e lo dicono molti dottori quindi è inutile che ancora qui stiamo a dire cazzate ah il polmone perforato perché gli è finito in gola del liquido di questa sigaretta elettronica rotta cazzate non credete a tutto quello che vedete in giro prima informatevi delle fondi se sono affidabili e tutto perché si creano semplicemente poi cioè delle notizie stupide cioè bah ragazzi detto ciò vi do appuntamento al prossimo video vi saluto ciao ciao Grazie.